amica mucca ciao vedi il grano è maturo mi aiuti a raccoglierlo no non posso ciao maiale sai che il grano è pronto per la mietitura non è che ti va di raccoglierlo insieme a me no non posso non mi va cagnolino il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo potremmo farlo insieme chi io non ci penso nemmeno ciao paperella il grano è pronto bisogna raccoglierlo ti va di aiutarmi non posso proprio va bene lo farò da sola